Sebbene ancora non sia arrivato ufficialmente in Italia, a livello europeo Samsung ha rilasciato il nuovo update Android 7.0 Nougat per Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge. Un aggiornamento che migliora molto l'esperienza d'utilizzo, rinnova l'interfaccia utente, aggiunge quelle caratteristiche tipiche di Nougat e rende i Galaxy S7 ancora più interessanti. Scopriamolo insieme! Rispetto all'aggiornamento beta che abbiamo visto intorno a ottobre, il nuovo update ufficiale per Galaxy S7 e S7 Edge va a migliorare alcuni aspetti estetici, rende l'interfaccia ancora più fluida e soprattutto ci permette di avere alcuni elementi grafici meglio realizzati. In particolar modo la sezione delle notifiche adesso permette di sfruttare tutte quelle notifiche ricche, ovvero quelle opzioni all'interno proprio di quest'area che ci permettono di interagire direttamente con una determinata porzione di notifiche. In questo caso una screenshot potrebbe essere Twitter o per esempio Whatsapp che permettono anche la risposta direttamente all'interno di questa zona senza dover andare ad aprire l'applicazione stessa. Zona che è stata rivista anche per quanto riguarda l'estetica dei quick settings che adesso possono essere modificati in tre modi, sia da un punto di vista di quantità di informazioni presenti in questa zona, sia per tipologia di opzioni. È infatti presente la possibilità di mostrare il controllo della luminosità direttamente nella parte qui in alto oppure di lasciarlo nella parte bassa e quindi nel primo scroll non visualizzarlo. Inoltre chiaramente sarà possibile andare a modificare completamente la posizione di questi tasti e quindi selezionare sia quali inserire, in questo caso è possibile anche utilizzare dei quick settings di terze parti come il metodo di Chromos che sono appunto le novità che permettono a Nougat di avere la compatibilità proprio con questi aspetti. Inoltre è stato migliorato ovviamente il multitasking che adesso ha una visualizzazione a schede ampia che è più rapido, più fluido, ha un'animazione quando si entra all'interno proprio del multitasking più efficace, più carina e tutte le animazioni sono fondamentalmente più morbide, sono più gradevoli e questo si riflette un po' dappertutto. Il multitasking però perde diciamo alcune funzionalità avanzate che Samsung aveva inserito. Chiaramente è possibile suddividere la schermata in due o più sezioni, in questo caso possiamo per esempio prendere il calendario e decidere quanto grande fare una finestra rispetto a un'altra. È inoltre possibile utilizzare queste funzioni rapide per invertire l'ordinamento delle finestre o ancora per andare a inserire una finestra all'interno di una singola zona, quindi in pratica a rendere flottante quell'applicazione stessa. Una funzionalità sicuramente comoda che permette poi anche l'utilizzo della funzione di riduzione icona, quindi per esempio se torniamo nella situazione di prima io posso andare a selezionare la finestra flottante e poi ridurre a icona quel programma che potrà essere spostato dove vogliamo, potrà essere lasciato a schermo oppure cliccato nuovamente, aperto e quindi avere un'interazione completa con questa tipologia di multitasking. Alcune opzioni sono sicuramente comode, altre sono un pochino macchinose. Va però detto che l'apertura di tutte le applicazioni è davvero molto rapida, si riesce a navigare, a utilizzare circa 7-8 applicazioni sempre in RAM senza alcun problema, senza alcun ricaricamento, ma comunque sia la RAM viene gestita più o meno nel stesso modo che abbiamo visto con Marshmallow. Ovvero la saturazione della RAM è abbastanza rapida nella TouchWiz perché abbiamo tanta RAM che è occupata già dal sistema, però comunque si riesce tranquillamente a gestire tutto senza grosse difficoltà. Interessante poi il nuovo layout per quanto riguarda tutte le impostazioni. Abbiamo già visto questo aspetto sul Note 7, ma mai elevato sul mercato. Qua adesso viene mostrato in tutta la sua eleganza perché fondamentalmente è vero che il bianco stona su un display AMOLED, ma è altrettanto vero che la chiarezza con cui si riesce a visualizzare tutti i contenuti e come questi sono impostati, la facilità di lettura che ci permette di avere lo sfondo bianco unito ai caratteri e alla definizione Quad HD dello schermo sono davvero un valore aggiunto. Tra le caratteristiche introdotte nuove abbiamo la possibilità poi di ridurre fisicamente la dimensione degli elementi, oltre che a intervenire sulla grandezza del carattere. Chiaramente sono poi possibili tutte le personalizzazioni dei caratteri e ancora è possibile utilizzare la modalità facile che Samsung inserisce all'interno della sua schermata Home o ancora sarà possibile andare a utilizzare tramite l'impostazione dello schermo la diversa risoluzione. In questo caso noi stiamo utilizzando il Full HD perché è l'impostazione di default, ma possiamo passare direttamente al Quad HD e avere ancora più dettagli e più definizioni. Ecco devo ammettere che fondamentalmente a me non mi sembra di vedere grosse differenze tra il Full HD e il Quad HD nel momento in cui andiamo a selezionare appunto l'opzione Quad HD, qui non avevo premuto applica, però qualcosa in più sicuramente viene fatto a livello software con questo upscale o meglio con la risoluzione nativa. E' poi possibile andare a utilizzare tutte le funzionalità di gestione del telefono tramite questa applicazione dove abbiamo batteria, prestazioni, memoria, RAM e altro. In questo caso le prestazioni sono ottimizzate, se noi mettiamo gioco abbiamo ulteriori possibilità di personalizzazione, così come se mettiamo svago abbiamo ulteriori opzioni e per ogni opzione è comunque possibile andare a personalizzare i vari parametri e chiaramente in alte prestazioni andremo ad utilizzare il telefono al massimo della sua potenza. In questo caso sono andato proprio a selezionare modalità alte prestazioni e inoltre in questa schermata avremo poi tutta la gestione della protezione, quindi la possibilità di utilizzare NOX e la possibilità di andare a gestire la memoria e ovviamente vedere la RAM. Memoria che viene chiaramente gestita, qui c'è un piccolo ricaricamento perché abbiamo cambiato modalità, tramite il sistema di archivio interno, un'applicazione che è stata rinnovata, è ancora esteticamente più carina ed è chiaramente facile da consultare perché ci sono subito queste opzioni nella parte iniziale della schermata principale. A livello di fotocamera non è cambiato praticamente nulla rispetto all'anteprima che vi abbiamo fatto vedere a ottobre della beta, abbiamo le stesse impostazioni che abbiamo visto su Marshmallow ma con uno swipe che ci permette di accedere rapidamente sia ai filtri sia alle opzioni generali, quindi poi la possibilità di andare nella modalità pro ad esempio o nella modalità automatica oppure con uno swipe verso l'alto potremo facilmente accedere alla fotocamera anteriore. Oltre a questo abbiamo tutta una serie di applicazioni preinstallate da parte di Microsoft per la partnership con Microsoft e in questo caso essendo un aggiornamento dedicato al mercato europeo è presente di default anche Android Pay. In Italia al momento è praticamente non utilizzabile però comunque è disponibile ed è possibile utilizzarlo. All'interno poi delle impostazioni abbiamo anche le funzionalità avanzate dove sono presenti tutte quelle ottimizzazioni per la gestione a una mano o ancora quei movimenti intelligenti per la chiamata diretta, l'acquisizione di immagini o ancora la possibilità di utilizzare il sistema ottimizzato per giochi, game launcher e game tool che ci permettono fondamentalmente di andare a disattivare i tasti software durante il gaming o ancora migliorare quelle che sono appunto le caratteristiche stesse di gioco. Per il resto per quanto riguarda proprio le impostazioni non ci sono grosse novità se non come detto una riorganizzazione generale dell'interfaccia. Il software è basato su Android 7.0 dunque non la 7.1 ma le patch sono già di gennaio. Novità per quanto riguarda il tastellino telefonico adesso con questa visualizzazione più chiara abbiamo l'accesso diretto alla rubrica sul lato, rubrica che è stata migliorata perché abbiamo con un click l'accesso rapido alle funzioni principali di chiamata, messaggio, videochiamata oppure l'ingresso diretto all'interno dei dettagli. Ovviamente all'interno della rubrica sono sempre presenti gli swipe per mandare un messaggio o per fare una chiamata diretta, in questo caso la tastiera di Samsung non è fondamentalmente cambiata, è la solita, ha un layout leggermente più stretto forse e ci sono tutte le opzioni e le funzionalità di copia e incolla avanzata o ancora la ricerca vocale e tutte le caratteristiche appunto che Samsung ormai inserisce all'interno della propria personalizzazione. È possibile utilizzare anche la tastiera con una sola mano, funzionalità a una sola mano che sono presenti chiaramente anche nel tastierino di composizione numerica. Anche in questo caso nella parte messaggio è presente la possibilità di andare direttamente in rubrica con anche qui la riproposizione delle funzionalità di chiamata e di gestione. Chiamata, interfaccia telefonica che fondamentalmente è stata ripresa rispetto a quella che abbiamo visto adesso in modo fedele con sempre il tema chiaro. Per quanto riguarda la navigazione web, qui un piccolo ricaricamento, abbiamo una velocità davvero eccellente per apertura, gestione e caricamento di tutti i contenuti, i frame o qualsiasi altra cosa. Qui siamo sulla notizia di Galaxy S8 che sarà presentata appunto il 29, quindi Evernote e quindi come vedete insomma una navigazione davvero molto molto efficace e molto veloce. Manca forse un po' di morbidezza generale nella velocità con cui, o meglio nel frame rate dell'animazione. Al momento mi sento di dire che comunque l'interfaccia è un passo avanti significativo rispetto alla precedenza di TouchWiz. Nella parte laterale, quindi una sorta di feed ulteriore, abbiamo una pagina che è ancora in divenire, qui dice proprio che è una versione di prova ma siamo quasi pronti, dice Samsung, dove saranno contenute tutte le informazioni sulle notizie che abbiamo selezionato attraverso le opzioni, più ulteriori dettagli che potremo selezionare proprio tramite questa interfaccia fondamentalmente tipo Blink Figure. Per il resto anche molto carino il calendario, nuovo, rinnovato, che ha una caratteristica interessante, ovvero la possibilità di muoversi tra i vari appuntamenti tramite una visualizzazione a card. Sicuramente d'effetto. Per quanto riguarda poi widget Home, nella Home è possibile andare a modificare la griglia che è già un 5x5, oppure andare a selezionare temi e sfondi attraverso lo store proprietario di Samsung, che adesso non soltanto integra gli sfondi, non soltanto integra i temi, ma ci permette anche, per esempio, di andare a selezionare degli icon pack. Icon pack andranno a modificare soltanto l'estetica delle icone di sistema e quindi avrete, per esempio, in questo caso, un squadrettamento completo di tutte le icone con un'estetica sicuramente piacevole e carina. Chiudo parlando di batteria, tramite il quick settings rapido sarà possibile andare a gestire quelle opzioni di personalizzazione che abbiamo visto in precedenza, ma batteria che è presto, chiaramente per dirlo, ma avendo utilizzato la versione beta fino a veramente ieri, più qualche ora di smanitamento su questa versione, non mi sembra abbia subito dei miglioramenti significativi. Probabilmente utilizzando delle modalità di risparmio, magari soltanto medio, e abbassando un pochino la risoluzione, andando quindi al full HD, si riesce a guadagnare magari quell'oretta all'interno dell'intera giornata, però grossi e significativi miglioramenti non ne ho visti con la beta e credo di non vederne neanche con questa realista. definito.